Una nuova tappa nelle nostre meditazioni durante questa novena dei defunti ci porta a riflettere su un oracolo del profeta Geremia che visse il dramma dell'assedio e della distruzione di Gerusalemme. E proprio in relazione al popolo deportato e all'angoscia delle madri che vedevano morire i loro figli, a nome di Dio pronunciò queste parole importanti. Dal libro del profeta Geremia, così dice il Signore, una voce si ode a rama, un lamento è un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli perché non sono più. Dice il Signore, trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Parola di Dio. Questo oracolo è tratto dal capitolo 31 del libro di Geremia. È proprio il cuore di tutto il suo scritto. È il testo che gli studiosi chiamano libro della consolazione, perché in quelle pagine il profeta, dopo avere così aspramente rimproverato il popolo per tutti gli sbagli che aveva commesso, presenta parole di conforto e di consolazione. Eppure la situazione è ancora brutta, non è ancora spuntata nessuna aurora. Si trovano nel pieno della notte, nel dramma della conquista da parte dei babilonesi che radono al suolo il Tempio, distruggono la città, deportano gran parte della popolazione. A Rama era radunato il gruppo degli esuli, una specie di campo di concentramento in cui i soldati babilonesi avevano raccolto uomini e donne che dovevano essere deportati in Babilonia. Rama vuol dire altura, oggi è conosciuta col nome di Ramalla e poco a nord di Gerusalemme. Secondo l'antica tradizione a Rama c'era la tomba di Rachele, moglie di Giacobbe, madre di Giuseppe e di Beniamino, quindi una delle matriarche di Israele, un'antica madre che aveva dato la vita a due delle principali tribù di Israele. Il profeta ha una impressione poetica, proprio a Rama dove è sepolta l'antica madre, adesso sono raccolti in campo di concentramento quei poveri disgraziati che saranno portati a migliaia di chilometri dalla patria. Il profeta sente una voce da Rama, sente un lamento e un pianto amaro, riconosce che è Rachele, l'antica madre a piangere i suoi figli e non vuole essere consolata perché i suoi figli non sono più. Con una invenzione poetica il profeta Geremia dà voce al pianto di tutte le madri, attraverso l'evocazione di Rachele che piange per la perdita dei suoi figli, discendenti di Giuseppe e di Beniamino, il profeta vuole parlare del pianto di tutte le madri, di tutte le donne e quindi di tutti gli uomini che nel corso della storia hanno vissuto situazioni dolorose, grandi perdite, sofferenze che hanno fatto versare lacrime amare. E di fronte ad un dolore così grande chi piange non vuole essere consolato, rifiuta ogni parola, non ci sono parole che possano colmare un dolore così grande. Ma il profeta ascolta anche un'altra voce, non solo il pianto di Rachele, ma anche la consolazione del Signore. Dice il Signore, trattieni il tuo pianto, trattieni le lacrime dei tuoi occhi, perché c'è un compenso alle tue fatiche. Una parola di consolazione può dirla solo il Signore, perché è l'unico che può realizzare quello che promette. Le nostre parole di conforto nei casi di funerali, di perdite di persone care, soprattutto giovani, sono parole vuote, rischiano di essere banalità. Ripetiamo le solite formule che non aiutano e non consolano. Solo il Signore può consolare veramente, perché è l'unico che può offrire un compenso alle nostre fatiche. È una promessa di vita oltre la morte. Le lacrime non sono sprecate. Quella sofferenza e quelle morti non sono inutili. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei Suoi fedeli. Egli raccoglie le lacrime di ciascuno di noi nel suo otre, dice un salmo, come se custodisse come un tesoro prezioso le nostre lacrime, cioè le sofferenze di ciascuno di noi. Non è una sofferenza perduta. Se siamo in comunione con il Signore, anche la nostra sofferenza, il nostro pianto, le nostre angosce, possono avere un senso, perché c'è un compenso per queste fatiche. Il Signore garantisce torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. In senso letterale il profeta intendeva semplicemente promettere che gli esuli un giorno sarebbero tornati in patria. Di fatto tornarono due generazioni dopo, furono i nipoti degli esuli a rientrare in patria. Ma nella pienezza del senso biblico noi riconosciamo in questa consolazione di Dio una promessa di ritorno eterno. Rachele è la rappresentante di tutte le madri che hanno perso un figlio. Ed è colei che viene consolata perché il Signore le garantisce non è perduto, ritornerà, ritornerà dal paese nemico, ritornerà nella sua terra. Il Signore ci ha promesso in eredità la terra, che è il paradiso, che è la vita con lui. L'esilio nella morte non è l'ultima parola, ritorneremo, ritorneremo nella patria, potremmo arrivare nella patria con il Signore. L'evangelista Matteo all'inizio del suo Vangelo cita espressamente questo oracolo di Geremia a proposito della strage degli innocenti. Dice che l'uccisione di quei bambini a Betlemme avvenne perché si adempisse quel che era stato scritto dal profeta, una voce si ode a Rama, un lamento e un pianto amaro, Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Solo il Signore può dar possibilità di essere ancora. I figli non sono più, ma non è l'ultima parola quella della morte. I tuoi figli, dice il Signore alla madre Rachele, saranno ancora. C'è una speranza anche oltre la morte e noi accogliamo con grande fiducia. Questa parola di consolazione che il profeta ci trasmette per i nostri defunti e per noi stessi è una parola che fa bene. C'è un compenso per le nostre fatiche. Quello che facciamo non è sprecato ed è una grande consolazione saperlo.